La storia di Maria, che ha otto anni, vide la Madonna per la prima volta. Poi dal 2006, con regolarità, una serie di apparizioni di Maria, Gesù e Padre Pio. La Sedlakovic non è alla ricerca di fama, la sua è un'opera di sensibilizzazione. Ne parliamo insieme. Questo posto ha un significato particolare, come mai? Perché quando avevo 33 anni, questa è la seconda apparizione che ho avuto proprio qua davanti a questa Madre Celeste. Perché io bevevo, avevo un po' anche depressione, non poca perché tanta. E quando sono arrivata, e giocavo anche, questo ho tre vizi, un vizio grosso. E sono arrivata qua, ho pianto, mi sono messa qua e ho detto, Madonna ti prego aiutami perché non ce la facevo più, perché mia mano tremava abbastanza. E poi, quando ho visto la Madonna, pensavo a un'allucinazione, era troppo bella. Però ho cominciato qua. Ecco, avevo 33 anni. Adesso io sono qua, praticamente, non per essere creduta, ma sono qua per dire quello che mi dicano Madonna Gesù e Padre Pio. Perché oggi i veggenti nascono come i funghi, però i veggenti, che veramente sono i veggenti, come dice Madonna, lei dice, è facile conoscere veramente chi mi vede, chi mi parla. Quelli si impoveriscono materialmente nel mio nome, nel nome dei poveri. Quelli non si arricchiscono mai. E Madonna mi dice una cosa molto importante. Lei dice, figli miei, io non lo so perché avete così poca fede, perché mi cercate così lontano. Io non sono lontano. Ha detto, voi mi cercate nei posti ricchi materialmente, ma questo non ci ha mai rappresentato nemmeno mio figlio. Lei dice, se una mamma ha due figli, non può mai dare da mangiare a un figlio un pesce o a un altro un serpente. Lei dice, se una mamma ha due figli, non può dare acqua da bere a un figlio e all'altro figlio benzina. Se una mamma ha due figli, ha detto, non può mai fare una villa per un figlio e per l'altro mandarlo sotto i ponti a dormire. Se ha un figlio, dice, non può curare un figlio e l'altro lasciare morire. Perciò lei dice, figli miei, come potete pensare che io mi trovo a posti così ricchi, così potenti. Io mi trovo veramente là dove voi fate volontà del Padre nostro, dove voi dividete un pezzo di pane, dove voi dividete una carezza, un ascolto di un disperato. Io mi trovo là dove fate volontà del Padre nostro. E allora Madonna dice, smettete di far arricchire i posti che sono già straricchi, perché quanto bottiglia è piena, è inutile mettere acqua, perché dopo esce tutte fuori. Ma ci spieghi meglio queste apparizioni, ogni quanto arrivano, dove si manifestano. Ecco, questo che voglio dire, quanto dicono, ho l'oroggio, cucù, arriva. Non è così, non è così. Io a volte mi alzo e dico a mio marito, o dico, oddio, se vedi stasera come ho visto Madonna Bella. Praticamente io porto i cani giù a fare il loro giro. In questo momento i miei cani, praticamente, è tutto recintato. Io porto sempre il telefono perché parlo con l'amica, li faccio mezz'oretta camminare. In questo momento, praticamente, vedo Gesù, come adesso alla Pasqua, lo vedo Gesù proprio nella stela. Mi abbasso e fotografo e Gesù esce sulla stela. Ecco, e Gesù mi parla. Ma secondo lei perché ha scelto proprio Maria? Perché ha scelto la Maria? Perché la Maria Sedlakovic aveva tre appartamenti. E vivevo discretamente, molto bene, posso dire. Io un giorno mi sono alzata dopo questo 13, 10, 2006, quando Madonna mi ha detto che chi vuole seguire veramente strada di lei e suo figlio deve diventare più povero e non più ricco. A questo punto ho venduto tutto e ho regalato per i bambini del Sudan, Africa e Congo. Ho adottato sette bambini e sono rimasta senza soldi. Però se uno mi adesso dice, Maria, ti diamo un miliardo e vuoi ritornare indietro praticamente con i soldi? No, voglio tenere quello che ho qua, perché qua posso sempre seminare, seminare, ma non finisce mai, è sempre pieno qua dentro. Ma queste immagini sono sfocate, sono nitide? Che tipo di immagini sono? Ma immagini che veramente sono bellissime, però se voi vedete anche altre apparizioni, sicuramente non sono uniche, forse sono uniche, che non mi sono arricchita per niente, perché vivo una macchina di 500 euro e mi vesto a mercatino delusato, ma ci sono molti veggenti e qualcuno, non dico che non è stato bravo e non ha avuto apparizione, ma sono sempre infocate, non puoi mai apprenderlo limpidamente, perché loro non sono come noi, loro sono angeli, loro sono... Madonna non cammina mai, lei è sempre su una nuvola praticamente, o su una luna, come ho fotografato sulla stela, perciò io li vedo, io li sento, però non è detto che tutti li sentano. Quindi queste sensazioni, questi momenti, le hanno fatto venire la voglia di condividerli con il prossimo, ma anche di farli fruttare, cioè in termini di aiuto per i più bisognosi. Infatti io sto dicendo, io non sono qua per essere creduta, io sono qua perché nessuno mi deve credere, perché nostro Signore Gesù ha fatto tanto per noi, si è fatto povero e è morto per noi, però pochi li hanno creduto, quasi nessuno diciamo, però io sono qua per raccontare quello che devo raccontare. Poi se gente mi crede, bene, se non li crede io li voglio bene lo stesso, non è che mi devono per forza credere. L'importante è che fanno questo che io sto dicendo adesso. Allora, quello che ha detto la Madonna l'ho detto adesso. Quello che dice Gesù, Gesù dice, beati poveri che hanno cuore e che si commuovono alla sofferenza degli ultimi della terra. E guai a quelli che sono ricchi materialmente ma girano la testa dall'altra parte e dicono, a me questa non interessa, devono pensare i grandi della terra, perché Gesù ha detto che un giorno questi poveri diventano più ricchi del mondo e questi ricchi che sono menfreghisti diventano più poveri, perché ha detto che tutto quello che hanno su questa terra è troppo pesante per andare in cielo, andrà solo nostra anima e se noi aiutiamo gli ultimi della terra, nostra anima arriverà a Dio. Ma c'è un modo concreto per aiutare i più bisognosi e i più poveri? Cosa ha messo in piedi? Sì, allora io ho scritto tre libri e una cosa, questo è già un grande miracolo, perché non sono andata in scuola, non so parlare neanche perfetto in italiano. Questi libri si vendono in Amazon, Sedlakovic Maria. Allora io vendo tre libri praticamente e se uno prende un libro non devi dare soldi a me, può mandare direttamente questi soldi a Medici Senza Frontiera, oppure Unicef, oppure un'associazione che sia seria. Noi dobbiamo rinunciare a tre caffè al giorno, che ci fanno tanto male, però questi tre caffè al giorno salvano vita di un bambino dell'Africa. Oppure se vedono uno senza tetto, anche se hanno questa giacca, io la metto addosso a questo senza tetto, arrivo a casa e mi metto un'altra giacca del mercatino dell'usato. Ecco, ci vuole così tanto, poco, per veramente sentirsi bene e sentirsi che sei arrivata sulla strada giusta verso il nostro Signore Gesù. Africa, Congo, vai Unicef e dici dove adesso c'è emergenza? Saranno loro che ti indicano praticamente, però che sia Serias, associazione, ti indicano dove praticamente anche pochi euro, anche 5 euro, 10 euro, 3 euro, quello che mandiamo ai poveri della terra. E poi non è solo questa, perché la Madonna, Gesù e Padre Pio, loro dicono che noi dobbiamo amare tutto, non soltanto i bambini poveri, noi dobbiamo amare i lalberi, non li dobbiamo tagliare se non ci serve per forza, dobbiamo amare fiori, dobbiamo amare tutto quello che Dio ha fatto su questa terra. Il suo è un po' un atto di consapevolezza e di instillare nelle persone il desiderio di spogliarsi del superfluo. Perché ci servono 5 questi? Bastano soltanto uno, te lo lavi, te lo asciughi in un attimo, c'è da 2 euro a pagare, asciugare e te lo metti addosso. Quindi l'atto di Maria è un atto di sensibilizzazione del prossimo. Solo questo, non devo essere creduta come veggente, non vorrei mai passare per la veggente, sarà Dio Padre a decidere chi e cosa sarà. Il mio dovere è invitare la gente di aiutare i ultimi della terra. Perché quando si parla si toccano questi temi, ovviamente la prima cosa che viene in mente è che tante persone siano scettiche. Io preferisco vivere cent'anni e non essere morta, perché Picasso per diventare Picasso ha dovuto morire. I veggenti, che veramente sono veri veggenti, hanno dovuto morire. Io vorrei ancora vivere se possibile, io amo la vita, vita è un miracolo, è un dono di Dio. Perciò non vorrei mai essere una veggente, io vorrei essere veramente una voce di Dio, che Dio dà a tutti noi possibilità di parlare, perché non è un peccato parlare quello che vuole Madonna Gesù e Padre Pio. E Padre Pio sai cosa dice? Lui dice che i semi sono così piccoli, però quanto si seminano nella terra praticamente, e si seminano con amore, crescono grandi frutti e noi mangiamo questi frutti. E stessa cosa questo, se noi seminiamo, se noi abbiamo anche un panino e lo sbricioliamo e lo diamo un po' a piccioni, se andiamo un po' a poche crocchette, andiamo in canile, aiutiamo questi poveri cani, abbiamo qualche cosa da vecchio, buttiamo là dove ci sono canili, dove dobbiamo aiutare cani, gati, piccioni, bambini ultimi della terra, vicino della casa che non può andare a fare la spesa. Dobbiamo fare veramente poco, ma con amore. Gesù ha sempre detto, perché Gesù mi appare molto di più della Madonna, Gesù sempre ha detto che quelli che sono misericordiosi, quelli che riescono a perdonare, quelli che riescono a volere bene le persone, che riescono a spogliarsi dei suoi beni superflui, quelli vedranno il regno di Dio. Soprattutto per vincere la depressione, che io ho 40 anni e ho sofferto di depressione, se vogliamo vincere la depressione, depressione è veramente quanto tu pensi solo a te stesso, ma quando tu cominci a pensare agli altri, quelli che soffrono vicino a te e tu non li aiuti, o quelli bambini dell'Africa che con 3 euro possono sopravvivere, o 4 euro, e tu questi 4 euro li bevi caffè, ma solo per farsi bere, bere, bere. Allora, voglio solo questa dire, aiutate tutti, non solo i bambini piccoli del mondo che hanno più bisogno, aiutiamo prima loro, ma poi se ci rimane piccole briciole, aiutiamoli anche cani, gatti, perché i cani sono importanti, sono San Rocco, è diventato San Rocco perché era veramente curato da un cane, perché aveva lebra, perciò aiutiamo i cani, aiutiamo i gatti, non li buttiamo in mezzo alla strada. Maria, se qualcuno volesse approfondire la sua conoscenza, volesse entrare in contatto con lei... C'è il mio sito, però basta solo cliccare Sedlakovic Maria, è praticamente www.mariasedlakovic.com. Sono seguita da un milione di persone e le ringrazio a questo milione di persone, perché per me milioni di persone sono tantissime, non so neanche contare, perciò sicuramente voglio che qualcuno cerca di somigliare a questa povera stupida che sono io, mi chiamano che sono stupida perché dici tu hai regalato 180 mila euro, non conosci neanche queste persone, ma io conosco Dio Padre, io so quanto buono è il cuore suo, io ho fatto quello che Lui vuole e voglio che ognuno, non dico che vendano tutto, però almeno della torta, un pezzettino di torta regalano agli altri, ecco questa è la cosa che io voglio invitare la gente, a me non mi devono credere, io sono sempre Maria, Maria e basta, ecco questo. Grazie